Lo scopo di questo video introduttivo è quello di mostrarti un flusso lavoro completo di Adobe Premiere Pro CC mostrandoti quella che è la sequenza di lavorazione che generalmente si può seguire durante un montaggio video. Ovviamente lo scopo è quello di farti scoprire in anteprima tutto quello che potrai fare con Adobe Premiere Pro CC e tutto quello che apprenderai seguendo i diversi capitoli di questo videocorso. Sarai tu poi a stabilire, secondo le tue preferenze e secondo il tuo stile di montaggio, la sequenza di operazioni da svolgere in fase di montaggio di un video. Nel frattempo avrai una panoramica rapida di quelle che sono le funzionalità che scoprirai durante questo corso. Creiamo un nuovo progetto per ritrovarci all'interno dell'interfaccia di Adobe Premiere Pro CC. La prima operazione da eseguire è quella di acquisire i filmati da videocamera o, se lo abbiamo già fatto, possiamo importarli dalle nostre unità locali, dagli hard disk del nostro computer. Possiamo quindi sfogliare le cartelle e andare a prendere i file che ci interessano. Importiamo ad esempio dei video in formato DV, ripresi quindi con una videocamera mini DV. Una volta importati li ritroviamo nel nostro progetto. E all'interno del progetto, oltre ai video importati esternamente, così come potremo importare la musica o la grafica, possiamo anche creare nuovi elementi. Creiamo ad esempio un video nero che potrà servirci in fase di chiusura del montaggio. Creiamo un monoscopio, ovvero l'immagine colorata che viene messa come riferimento all'inizio di un video, in modo da consentire un corretto bilanciamento dei colori per quanto riguarda il monitor su cui visualizziamo il video. Dopodiché creiamo anche dei titoli. Un titolo iniziale e a seguire faremo un titolo finale. Per il titolo iniziale, strumento testo, facciamo clic all'interno di questo pannello e scriviamo Adobe Premiere Pro CC. Personalizziamo la formattazione scegliendo uno degli stili già disponibili in questo caso. Eventualmente interveniamo per modificarlo leggermente. Posizioniamo il nostro testo al centro dello schermo e chiudiamo. Creiamo un ulteriore titolo che sarà il nostro titolo finale. E in questo caso creiamo un classico, quindi scriveremo The End. Anche questo centrato e anche per questo utilizziamo lo stile che abbiamo utilizzato in precedenza, aumentando leggermente la crenatura. Dopodiché ricentriamo. Chiudiamo questa finestra e abbiamo i nostri titoli pronti all'uso. A questo punto importiamo anche una traccia audio, prelevandola col browser multimediale. A questo punto siamo pronti per iniziare il nostro montaggio. Abbiamo le clip video, abbiamo alcuni elementi grafici generati direttamente in Premiere, abbiamo i titoli creati con la titolatrice di Premiere e abbiamo la musica. Manca solo la parte più importante, ovvero la sequenza, che è l'oggetto all'interno del quale si può realizzare il montaggio del video. Sarà il contenitore di tutti questi elementi. Poiché abbiamo importato video DV, creiamo una sequenza prelevando un predefinito proprio dalla cartella DV PAL widescreen, quindi con aspetto panoramico. Facciamo clic su OK. Questa è la nostra sequenza all'interno della quale possiamo andare a introdurre tutti gli elementi che abbiamo importato nel progetto. Iniziamo con il nostro monoscopio. Dopodiché possiamo importare diversi spezzoni di video. Anziché importarli completamente, facciamo doppio clic sullo spezzone e scegliamo, utilizzando questi pulsanti, la porzione di video che più ci interessa e preleviamo solo la parte video. Non utilizziamo dunque l'audio di queste clip perché avremo una colonna sonora. Facciamo questa operazione e ripetiamola per tutte le clip video disponibili, prelevando ciò che ci serve. Per fare questo tipo di operazione, ovvero le operazioni di ritaglio, scoprirai che sono disponibili all'interno di Premiere Pro CC una serie di strumenti che consentono di effettuare questa operazione in diversi modi. Possiamo operare infatti nel monitor sorgente, che è quello che sto utilizzando io in questo momento, ma possiamo operare anche direttamente in timeline e con l'aiuto del monitor programma. Nel nostro caso, a titolo informativo, procediamo con il monitor sorgente. In realtà possiamo anche procedere all'interno del monitor progetto direttamente, selezionando con le scelte rapide che ti descriverò nel corso dei prossimi video, lo spezzone di video che poi importiamo. In questo caso, dobbiamo eliminare la traccia audio separandola dal video e eliminandola con Canch. Tutti questi tasti e queste scelte rapide le scoprirai nel corso dei capitoli. Quando abbiamo importato tutti gli spezzoni di clip che ci possono interessare, inseriamo la nostra traccia musicale. Ebbene, volendo fare un montaggio a tempo di musica, inseriamo sì la traccia musicale, di cui possiamo anche vedere la forma d'onda, ma vogliamo avere dei riferimenti per gli stacchi per effettuare i cambi di inquadratura. Apriamo dunque questa clip nel monitor sorgente e utilizzando il tasto M sulla tastiera metterò dei marcatori relativi agli istanti di cambio inquadratura, quindi seguendo la musica batterò sul tasto M della tastiera nei momenti che ritengo più opportuni. Bene, come hai visto Premiere ha inserito automaticamente questi oggetti che sono dei marcatori e nel corso dei prossimi capitoli scoprirai come utilizzarli, come inserirli, come modificarli. A questo punto abbiamo dei riferimenti per il montaggio. Cominciamo a portare il nostro titolo iniziale. E anziché inserirlo in questa traccia, nella traccia video 1, lo inseriamo nella traccia video 2 perché nella video 1 creeremo un elemento grafico che farà da sfondo. Quindi mascherino colorato, scegliamo un colore sul verde, diamolo ok, inseriamo il mascherino colorato, dovrò prima ritagliarlo e poi inserirlo qui in basso. A questo mascherino applicheremo un effetto video, come vedremo tra breve. Nel frattempo sistemiamo il nostro montaggio. Dunque afferriamo le clip, trasciniamole in corrispondenza del marcatore, e come vedi Premiere ci viene in aiuto. Iniziamo con un montaggio serrato, tagliando la clip, ad esempio questa clip, in diversi istanti e poi estendendone la durata. Come vedi questi sono tutti strumenti di montaggio da utilizzare all'interno della timeline, come scopriremo più avanti. Tagliamo anche questo elemento e spostiamo ciò che non ci serve. Per passare da uno strumento all'altro io sto usando le scelte rapide degli strumenti. Come vedi ogni strumento ha una scelta rapida, in questo caso lo strumento la metta alla C, lo strumento selezione alla V, e quindi io alternando i tasti C e V passo da uno strumento all'altro. Come vedi ho la possibilità di selezionare le clip, di spostarle a mio piacere. In questo modo posso effettuare il mio montaggio a tempo di musica. Quando ho terminato l'inserimento di tutte le clip resta il titolo finale da mettere, quindi prelevo The End, lo inserisco alla fine e lo faccio terminare su quest'ultimo marcatore. Inserisco invece il video nero alla fine affinché il video continui per qualche secondo anche dopo la fine della musica. A questo punto dobbiamo intervenire con gli effetti video. Per quanto riguarda gli effetti, li possiamo applicare da questo pannello, come scoprirai più avanti sempre in questo videocorso, e iniziamo a realizzare un effetto per quello che era lo sfondo del titolo iniziale. Questo era il titolo iniziale, adesso lo modificheremo con questo effetto che consente di creare un gradiente, come puoi vedere in questo caso. Quindi abbiamo questa immagine sfumata. Per questa sequenza, con questi quattro stacchi, cerchiamo di applicare un effetto ai quattro spezzoni della stessa clip, giusto per creare un po' di movimento. In questo caso utilizzeremo l'effetto replica, che consente di replicare in questo modo un'immagine, lo applicheremo su più clip, e aumenteremo il numero di copie, in modo che ciò avvenga a tempo di musica. Questo per quanto riguarda gli effetti. Altri effetti sono quelli legati al movimento. Ad esempio, nel titolo, possiamo creare un movimento di un leggero zoom in, ovvero un lento ingrandimento, di questo titolo, dall'istante iniziale a quello finale, e scoprirai come animare con questi oggetti, che sono i fotogrammi chiave, qualunque proprietà di clip o effetti. Creiamo un'altra animazione sulla rotazione, facendo girare cinque volte questo oggetto. E interpolando. Anche questo è un argomento che affronteremo nei prossimi capitoli. Realizzata l'animazione, applicati gli effetti, non ci resta che applicare invece le transizioni. Le transizioni video sono in grado di passare da un'immagine alla successiva in modo graduale, in modo più delicato rispetto ad uno stacconetto che è quello che puoi aver visto in questo caso. Dunque, da questo momento, inseriamo delle transizioni e lo faremo con quelle presenti nella cartella scorrimento. Vado a caso, giusto per creare qualcosa di animato. Visto che stiamo andando a tempo di musica, farò delle transizioni molto rapide. Vedrai poi come personalizzare le transizioni, come modificarne la durata, l'allineamento, e come creare anche delle transizioni personalizzate. Per adesso accontentiamoci di applicare le transizioni che Premiere mette a disposizione. Applichiamole anche senza scoprire qual è il loro funzionamento, qual è il loro risultato. Lo vedremo riguardando il video finale, considerato lo scopo di questo primo video introduttivo. Utilizziamo anche lo zoom incrociato, altro tipo di transizione. Le transizioni ci sono tutte. Non ci resta che inserirle eventualmente all'inizio del nostro titolo e lo facciamo utilizzando scure immagini, sia per il titolo e sia per il nostro mascherino colorato. Un'ulteriore cosa che possiamo fare è quella di creare delle sovrapposizioni. Dunque, prendiamo alcune delle clip che non abbiamo utilizzato, che abbiamo già importato nel nostro progetto, e che sono prova 7 e prova 5. Possiamo sovrapporre questa immagine, eliminiamo la parte audio, possiamo sovrapporre questa immagine a quanto è presente sotto. Facciamolo con questa per il tratto finale, titolo compreso, e per farlo agiremo sulle proprietà legate al metodo diffusione. Quindi, se questo è il video superiore che copre quanto presente nelle tracce inferiore, se utilizziamo un metodo diffusione tra quelli disponibili, creiamo questa sovrapposizione di immagini. Abbastanza gradevole, possiamo inserire una transizione alla fine, lo facciamo con una scelta rapida, ed ecco la transizione su questa clip, sia in apertura che in chiusura. Altro tipo di sovrapposizione lo possiamo fare con questa clip, inserendola ad esempio in questa zona, eliminiamo la sua traccia audio, adattiamo nella lunghezza e importiamola in questa zona, coprendo solamente queste due clip. In questo caso possiamo rendere semitrasparente questo video applicando un effetto di trasparenza. Quindi vado su effetti, effetti video, tipo di trasparenza, e scelgo trasparenza colore. Scoprirai nel corso dei prossimi capitoli come utilizzare gli effetti di trasparenza per realizzare effetti speciali molto avanzati. Aumentiamo leggermente la tolleranza, assottigliamo un po' il bordo e sfumiamolo leggermente. In questo caso quindi avremo le immagini sovrapposte, in questo modo. Facciamo entrare anche questo video in modo graduale con una dissolvenza molto rapida, proprio la dissolvenza incrociata in apertura, che accorciamo a una durata minima. A questo punto non ci resta che effettuare eventuali correzioni dei colori. Ad esempio, questa clip risulta leggermente slavata nei colori rispetto a quella successiva. Dunque, possiamo applicare un effetto di correzione dei colori, in questo caso uno molto semplice, sono le curve, che ti spiegherò in modo più dettagliato nel corso dei prossimi capitoli. Effettuiamo una leggera correzione per dare più contrasto all'immagine. Dulcis in fundo, il look del nostro video. Se vogliamo dare al nostro video un look particolare, possiamo utilizzare un livello di regolazione e scoprirà in un capitolo dedicato come realizzare dei look personalizzati grazie anche al livello di regolazione. Dopodiché, passiamo pannello effetti e utilizziamo uno dei look già pronti all'uso. come vedi, consente di dare al video un aspetto più cinematografico con questa immagine più contrastata. Quando tutte le nostre modifiche sono fatte, possiamo osservare l'anteprima della nostra animazione. Un po' di tempo per l'elaborazione dei fotogrammi che contengono effetti, dopodiché possiamo osservare l'anteprima ascoltando la musica. Quando siamo certi che tutto sia corretto e che il montaggio è completo, possiamo passare alla fase di esportazione del file multimediale. In questo caso, scegliendo uno dei formati che Premiere Pro mette a disposizione, utilizziamo un predefinito, in questo caso stiamo lavorando su un PAL DVWIDE, ed esportiamo il nostro file da utilizzare poi su un DVD, su un PC, da condividere su web, e così via. Bene, come anticipato all'inizio di questo video, lo scopo non era quello di farti apprendere già l'uso di molti di questi strumenti, ma quello di mostrarte nell'esistenza, di farti capire ciò che potrai fare seguendo questo corso utilizzando Adobe Premiere Pro CC.